Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come L'Isola dei Famosi, parole forti contro la regia del programma Naufragi incastrati.Isola dei Famosi.E' sicuramente uno dei programmi più seguiti della stagione L'Isola dei Famosi infatti condotto dalla bravissima Hilary Blasi sta riscuotendo come sempre un grandissimo successo televisivo Nonostante il programma stia solo all'inizio del percorso, pare che sull'Isola già si siano riscaldati gli animi di diversi naufraghi Come vediamo spesso infatti molti dei concorrenti già hanno avuto qualche battibecco abbastanza forte Nella serata di ieri è andata in onda il programma e pare che già se ne siano visti di ogni Nella puntata di ieri infatti pare che gli animi tra i naufraghi si siano riscaldati e non poco soprattutto quello della moglie di Clemente Russo Isola, Laura contro la regia.La moglie di Clemente Russo, infatti subito dopo aver effettuato la sua nomination nella Playa Sgamada, pare che si sia sfogata con il marito su alcuni comportamenti che la regia ha avuto e che non le sono andati giù Il motivo? Ebbene secondo quanto dichiarato dalla stessa Laura, la concorrente avrebbe inveito contro la regia proprio perché non le avrebbe fatto trovare un video delle sue due bambine e senza mezzi termini ha dichiarato C'era una sorpresa delle bambine e non ci e l'hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C'era una pergamena, l'ho presa e mi hanno detto lasciala là Secondo la concorrente questo atteggiamento nei suoi confronti sarebbe una vera e propria ingiustizia La stessa infatti ha voluto sottolineare che gli autori dell'isola non sono corretti nei suoi confronti visto che alle altre naufraghe dell'isola è stato concesso di vedere i loro figli Un vero fiume in piena Laura, ma d'altronde come abbiamo imparato a capire, Laura non ha peli sulla lingua Questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine Sono l'unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine Ha ribadito la concorrente, che si dice molto arrabbiata e delusa da questo comportamento Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao